Vediamo, ok. Quindi abbiamo il nostro inserto, vedete? Uno e due, uno il cremoso e uno invece il lampone. Così, schiacciate. Perfetto. Ok. Eccola qua. Guardate che gioiellino. Andiamo a tagliarla, andiamo a vedere l'inserzione. Che qui troviamo ovviamente la lampone e la fragola e la bavarese. Quindi abbiamo la composta, in questo caso, di lamponi, il cremoso alla fragola, la bavarese alla vaniglia, la glassa e il decoro. Riproducibile tranquillamente sia in questi stampi che in qualunque stampo. L'importante, come dico sempre, è imparare la tecnica. Poi una volta che una la tecnica lo potete fare monoporzione, lo potete fare mignone, lo potete fare a forma di cuore, rotonda, quadrata, come volete.